Il Black Friday serve, perché così si risparmia. Trovi qualcosa anche al 40%. Cominciamo un pochino a dare un'occhiata. A Napoli, tra le vitrine dei negozi, è già partita la caccia all'affare. Manca poco al Black Friday, il venerdì nero, il giorno dei grandi sconti. Quello che ho addosso ho 300, ma sicuramente a casa ero senza un euro, sicuro. È semplicemente un modo per cominciare, per partire, per cominciare a fare shopping, vedere i regali, le luci e disintossicarsi un po'. Un appuntamento atteso da chi ama lo shopping e non solo, perché per molti la ricerca dell'occasione è soprattutto un risparmio assicurato in vista del Natale. Quello che costa meno, quello prendi alla fine. Non ho visto grandi affari, anzi forse c'è anche qualche piccolo tranello. A me interessa la tecnologia, quindi non mi conviene, perché sono comunque prezzi alti. Non c'è storia tra Amazon e i negozi fisici, basta vedere sia i volantini e fare una ricerca su internet per vedere il divario di prezzo di 100 euro. E allora se la corsa al massimo ribasso corre soprattutto sul web, a preoccupare i negozianti è proprio la concorrenza a colpi di click. Abbiamo avuto moltissimi problemi di approvvigionamento, anche perché manca la materia prima, mancano, soprattutto nel nostro settore, i microchip dedicati ai cellulari. La concorrenza è tanta, perché sono delle multinazionali e poi loro non pagano tasse. Quindi non comprate cinese. Secondo le previsioni del Codacons, 27 milioni di italiani questa settimana sono pronti a mettere mano al portafoglio, con un occhio però a quello che verrà. Cerchiamo di fare vetrine, mettere entusiasmo in questa iniziativa. Ci auguriamo che non ci chiudano. Tutto dipende dalle nuove normative. La speranza è quella che ci sia una ripresa. Sta mettendo i corni, giusto? Eh sì, è il momento giusto.